Il nostro signore, sin da quando siamo bambini, ci dona dei talenti. La metterina è uno scienziato. E tu, che vuoi fare da grande? Io voglio fare un posto fisso. Praticamente mi hanno organizzato questo trattamento che se c'è da fare una cosa stupida, ma pure una fotocopia, dicono no, tu non sei capace, la deve fare il collega. Come si chiama? Il mobbing. Il mobbing. Fanelli, come mi rilassa. Tu vado, il primo gennaio al cinema.